Anzitutto un grande onore poter rappresentare le nostre istituzioni, il nostro paese all'interno della Svizzera e anche presso altri paesi. Poi anche la possibilità di dar voce a diverse componenti che fanno la storia del nostro paese, siano esse delle minoranze linguistico-culturali, siano donne e uomini che vivono e lavorano in Svizzera e appunto hanno interesse a portare avanti il futuro della Svizzera. Certamente è un ruolo importante, mi sono sempre battuta per l'uguaglianza tra uomini e donne, mi sono sempre impugnata per la diversità, per la rappresentanza di tutte e tutti nella politica e questo tipo di approcci o questi interventi vorrei portarli anche a livello della politica svizzera come Presidente del Consiglio Nazionale. Ma la lingua italiana non è solo una lingua ufficiale, è anche una cultura, un approccio che ha contribuito a costruire il nostro paese così com'è e questo approccio è molto importante oggi quando andiamo in una direzione di una società sempre più multiculturale con la presenza di lingue e culture diverse. Quindi il parlare italiano vuol dire aprirsi anche a tutte le minoranze. Sì, un'idea è quella di creare una pagina web dedicata alle donne politiche partendo da quella che è la nostra storia, la storia delle donne pioniere che hanno fatto sì che le donne siano presenti a livello istituzionale e che siano presenti in politica e incoraggiare le donne più giovani a partecipare alla vita politica perché questo è sinonimo di democrazia è possibilità di cambiamento e questo è molto importante per la Svizzera e il nostro futuro. Ma il Ruanda è un paese dove, l'unico paese al mondo dove le donne sono in maggioranza nel Parlamento e questo è sicuramente una delle ragioni ma non l'unica. Io penso importante anche conoscere gli altri paesi, conoscere i paesi del sud del mondo e vedere anche l'impegno della Svizzera nella cooperazione internazionale e nel sostegno e allo sviluppo di questi paesi.